buongiorno a tutti dal vostro produttore di fiducia sempre più impegnato questo periodo abbiamo tanto lavoro quindi faccio questo piccolo video per informarvi che mi sa che diciamo che almeno per un mesetto farò un pochino meno video però comunque i contenuti ci saranno sempre lo stesso saranno sempre tanti anzi vi invito a continuare a seguirci se non siete iscritti iscrivetevi l'argomento del momento è l'orto l'orto tutto quello che si può fare per avere un ottimo orto già abbiamo parlato di diversi argomenti molto importanti al riguardo insomma di diverse pratiche importanti già dall'anno scorso ma se andate a vedere nei video recenti ci sono diversi video dedicati proprio sia al pomodoro nell'orto sia all'orto in generale anche soprattutto il piccolo orto visto che magari lo abbiamo trascurato in passato niente io sono tornato tardissimo qui dietro di me vedrete sono stato a prendere le prime conserve le passate di pomodoro dice ma in questo periodo già fate la passata di pomodoro ma è impossibile e invece si facciamo la passata di pomodoro questo è datterino siamo a grado brix 9 wow non è finta è vero non sono io al contrario picciotti incredibile però dovete considerare che da noi ci sono temperature massime intorno ai 20 gradi 18 20 gradi dentro le serre arriviamo ancora di più il pomodoro viene gestito come si deve a regola d'arte quindi a tutto quello che gli serve per essere buonissimo già ora in aprile che vi devo dire di più che mi voglio bene già lo sapete basta dai ci sentiamo vediamo spero di riuscire a fare almeno almeno un video settimana lo voglio fare poi vi ricordo anche che ci sono i video per gli abbonati che comunque sia faccio anche quelli settimanalmente quindi insomma gli impegni sono tantissimi e basta dai così era per dare un saluto veloce e fare un riepilogo ok mi raccomando andate a vedere nelle playlist c'è orto c'è pomodoro nell'orto e insomma cercate i contenuti sul canale ce ne sono già tantissimi ciao a tutti e grazie sempre fate i bravi picciotti